Niccolò Rigacci, Movimento 5 Stelle Sì, il Movimento 5 Stelle chiede il voto sicuramente ai cittadini che lo conoscono e che lo apprezzano ma chiede soprattutto il voto a chi non riesce più a votare né PD né PDL Gli elettori PD vengono sistematicamente ignorati o traditi dal proprio partito Gli elettori PDL, quelli onesti che sono sicuramente la maggioranza non si riconosce più in un partito che al suo interno ha troppi inquisiti, corrotti e condannati Il 5 Stelle è un'alternativa credibile, governa già in comuni di primaria importanza Parma è il nostro fiore all'occhiello ma soprattutto ha adottato delle regole che lo rendono diverso per definizione Rinuncia al finanziamento pubblico ai partiti Al suo interno ha solo persone censurate, due mandati elettorali e poi a casa Questo vi garantisce che siamo persone oneste, che siamo lavoratori e che non siamo né all'ordine dei partiti né a gruppi di potere Quello che ci guida sono le buone idee che non sono né di destra né di sinistra né hanno classe sociale Crediamo che l'unica speranza per uscire da questa crisi economica ma anche morale e politica sia effettivamente solo il Movimento 5 Stelle Crediamo che l'unica speranza per uscire da questa crisi economica